Un marocchino di 63 anni è stato arrestato perché sospettato di essere l'autore dell'omicidio avvenuto nella mattinata di ieri a Pescara, nella centrale Via Gran Sasso. La vittima, Kokan Ossain, 44 anni, originario del Bangladesh, è stato raggiunto da almeno tre coltellate tra addome e torace. Una di queste, come se vince dai primi accertamenti medico-legali, sarebbe stata inferta al cuore. All'origine del delitto ci sarebbe una rissa scoppiata per questioni condominali e che ha coinvolto diverse persone. Vecchi mobiletti appoggiati ad un muro dove non dovevano stare e non era la prima volta che nel piccolo condominio i residenti litigavano per rottami e rifiuti. Solo che stavolta è finita male. Il marocchino avrebbe estratto un coltello e colpito le bengalese e rimasto a terra agonizzante sull'asfalto. Ossain è morto poco dopo. Da tempo viveva a Pescara e lavorava in una paninoteca del centro. Lascia la moglie e quattro figli nel paese d'origine. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale hanno acquisito le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona. Poi hanno ascoltato i connazionali che vivono nella palazzina. In serata c'è stato il fermo del sospettato, un provvedimento precautelare che dovrà essere confermato dal vaglio processuale. Grazie a tutti.